Allora, dobbiamo dirlo, l'Atalanta ha fatto un primo tempo strepitoso a Parma, 2-0 ma tra golli annullati, un po' divorati, poteva essere su un punteggio decisamente più ampio. Scatenato a Demola Lukman, che ormai abbiamo imparato a conoscere decisivo per il successo europeo degli orobici, e Reteghi, killer d'area implacabile, che sta lottando per vincere il ruolo di capocannoniere. Nella ripresa qualche patimento inizio secondo tempo, dove il Parma ha avuto delle reazioni forti, ha voluto dimostrare che la squadra non era così molle, non poteva accettare così passivamente un'umiliazione, sebbene l'avversario fosse di qualità. E allora ha deciso di reagire, ha reagito con nervi, con grinta, con cattiveria, ha sognato il gol, è andata vicino al pareggio. Però l'Atalanta c'è una rosa nettamente più ampia rispetto anche a quella della Juventus. Quadrado è il ventesimo giocatore che entra, ora hanno recuperato anche Scandini ed è un bene per il calcio italiano, e il ragazzo dopo l'infortuna e i legamenti possa ritrovare continuità di rendimento. Dobbiamo dirlo, io sono contento che il ragazzo merita le gioie. E questa è una rosa ampia, bella nova, Quadrado, ha tanta tanta qualità, può scegliere tra tanti giocatori, nonostante gli innumerevoli impegni. E l'Atalanta oggi a Parma ha dato un altro piccolo tassellino per il tipo di squadra che potrebbe essere in questa stagione. Una squadra rivelazione e sorpresa. Uno dei difetti dell'Atalanta è sempre stato che nelle corse a lungo cammino ha delle serate inattese, come la giornata con l'Udinese, la precedente, ha vinto tra episodi arbitrali e altro, solo per delle casualità, perché dal punto di vista del gioco ha fatto peggio di Friulani. Però l'Atalanta ha una facilità di far gol importante. Viene da una serie di vittorie consecutive degne di nota. È un organico consolidato. Gasperini è riuscito a creare qualcosa di veramente importante. E bisogna fare i complimenti al lavoro di tutta la dirigenza. che, vedete, questo è il mercato. 60 milioni Cup Minus dato via alla Juve per poi costruire una squadra molto più profonda, rispettando dei limiti di bilancio. L'Atalanta vuole credere al sogno Scudetto, anche se Gasperini, giustamente dal punto di vista mio personale, non è convintissimo di questa cosa. Nel frattempo l'Atalanta ha tre punti in più della Juventus, però il progetto, prima di tutto.